Eccomi qui, capelli fatti, ho tolto l'extension e ho fatto un super trattamento di laminazione perché io sono i due trattamenti che adoro la laminazione del botox e i capelli ho tagliato ovviamente il ciuffo corto come al solito e la lunghezza su tutti i pali mi era venuto il matto di farmi le corti fino a qua, però ce l'ho ancora a pensare un pochino a parte questo, visto che ieri siete impazzite letteralmente per il trucco che vi ho fatto vedere con i trucchi di Wicon ora torno a casa e ne facciamo un altro insieme e ve lo pubblico più o meno, ovviamente la base è sempre sulle stesse tonalità, però cambiamo l'ombretto perché con quella palette ce l'ho impazzita e dopo continuiamo con la bellissima Rebecca Staffelli poi Alessio Falzone con la sua squadra Sergio, Marcella Bonifacio, Letizia Petris Ciao!